Ciao ragazzi come state? Un saluto buona serata in questa giornata un po' uggiosa qui in Lombardia non so voi dove vi trovate, in Italia, in Europa, nel mondo, dove dobbiamo tornare anche a vincere Italia l'abbiamo fatto, ripeterci, Europa e mondo vi ricordo come sempre se amate il Milan e siete grandi quali rossoneri di iscrivervi sul nostro canale e sul loco mi raccomando al nostro canale, è gratuito ovviamente, di lasciare un bel like qui sotto ancora poche ore in paglio, a mezzanotte, due biglietti per Milan-Salisburgo scriveremo poi sulla community il nome del vincitore e anche una maglia del Milan che potete vincere come scaricando gratuitamente l'app di numero 10 dal link qui sotto fatelo numerosissimi mi raccomando, è gratuita l'app numero 1 allora ragazzi oggi giornata di vigilia oggi ho visto tanti rossoneri in giro il mio amico Nino è sicuro che domani si vince e lui dà sempre molta carica e fiducia ne ho incontrati altri un po' a delusi per l'altro giorno personalmente io ho superato un po' e oggi ho switchato dal logo Serie A sono passato al logo Champions League, all'Europa dall'inno della Serie A sono passato all'inno della Champions quella musichetta lì ragazzi vibrazioni, emozioni, ricordi, amarcord dobbiamo rinfrescargli un po' questi ricordi siete d'accordo con me, è vero? Credo proprio di sì allora iniziamo subito con un po' di notizie con un accenno importante anche sul mercato partiamo subito, dividiamo in tre settori questo video il primo riguarda il campo con purtroppo oggi Dest assente la rifinitura è un peccato perché lui lo stiamo utilizzando un po' a targhe alterne perché rientra, gioca, ne fa un paio, riesce peccato perché in questo momento dietro abbiamo una situazione di emergenza e quindi se non c'è Dest siamo obbligati a far giocare Calulu sulla destra fortunatamente rientra Kier in mezzo che è riposato nell'ultimo turno maledetto contro il Torino con appunto Tomori sulla sinistra ovviamente ci sarà Teo in porta Tatorusano però ecco ad esempio nella gara di sabato contro lo Spezia sarebbe ottimo avere a disposizione Dest se hai Dest credo che gioca Dest giochi con Dest a destra Calulu lo dirotti in mezzo alla difesa con magari Tomori e abbiamo un giocatore bravo nel palleggio perché ultimamente stiamo avendo un po' di difficoltà nel palleggio e Dest vedete spesso prende palla, parte con il suo fisico va 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 e si avvicina verso la metà campo avversaria spesso anche al limite o mette palle dentro quindi speriamo che sia una cosa davvero da poco e di averlo poi nella prossima partita che bisogna vincere Benasser Tonali ragazzi la coppia di centrocampisti che contro la Dinamo ha fatto una partita top proprio a livello europeo stanno facendo un salto di qualità lo hanno già fatto secondo me Benasser quest'anno si è consacrato con continuità Tonali pure insomma se domani si vince tra l'altro portiamo a casa due milioni e mezzo io adesso guardo tutto e due milioni e mezzo di questi tempi è un ingaggio che si propone ad esempio a Kalulu anzi un po' di più al netto poi c'è il Lordo detto questo ci sono un po' di sorprese la non sorpresa riguarda Giroux numero 9 c'è lo sappiamo ormai un'alternanza Giroux-Rigi così che non sovraccarichi né l'uno né l'altro poi dopo la gara di domani ne mancheranno appena tre di campionato vediamo se davanti credo con l'alternanza probabilmente sì la non sorpresa riguarda Leao oggi mister Pioli ha detto che è pronto Tonali ha detto non si giudica Leao per una partita quindi speriamo crediamo che si possa far perdonare per quel doppio errore che ha segnato poi col seno del poi la partita persa contro il Torino e la doppia sorpresa con un paio di balottaggi tre quarti ed esterno e destra ma la doppia sorpresa riguarda Krunic che dovrebbe giocare come centrocampista trequartista e mi sembra una cosa giusta perché il Salisburgo è una squadra tosta corre ha un'intensità interessante quindi bisogna secondo me dare supporto di due centrocampo a livello numerico e quantitativo appunto con un giocatore come Krunic che fa sostanza se serve magari anche il piede buono per avere la giocata il tappino oppure il colpo di testa là davanti quindi sono molto d'accordo e lo dicevo nel video di questa mattina che se non l'avete ancora visto vi rimando a vedere credo interessante su Aster Franks io credo che il Milan debba trovare il suo nuovo abito con il centrocampista giunto sulla tre quarti che sia Krunic che sia Pobeka che sia come spero Aster Franks preso per sostituire che sì dopodiché la seconda sorpresa sulla destra riguarda Rebic Rebic che non è entrato bene nell'ultima partita però dovrebbe spuntarla lui c'è un ballottaggio ma dovrebbe spuntarla lui su Messias che al di là del gol non mi aveva entusiasmato nell'ultima partita in generale mi sembra un Messias più attento alla fase difensiva in quest'ultima parte ma meno non dico dominante meno irresistibile là davanti quando puntava andava la creava sempre scompiglio e pericolo mi sembra non so se siete d'accordo che quest'anno lo stia facendo un po' meno detto questo Rebic sulla destra è cosa che avevamo invocato qui su Milanello un paio di mesi fa un mesetto fa quando si era fatto male anche Salemakers oggi qualcuno quando ho detto speriamo che possa giocare a Vrancs un po' di più mi ha scritto diventi ridicolo non fare l'allenatore insomma a me sembra che si possa parlare di calcio tutti senza la pretesa di ovviamente sostituirsi a Mr. Pioli ma è il bello del calcio io farei giocare questo quest'altro perché non gioca quello se abbiamo preso un giocatore come Vrancs comunque per farlo giocare quindi non è che bisogna fare l'allenatore quindi su Rebic Leao e Krunic mi intriga sperando che Rebic possa essere in serata Leao stesso però mi sembra una formula interessante spero vincente poi oggi da registrare una dichiarazione importante di Noah Okafor che ci ha segnato e speriamo non ci segni domani giocatore di 22 anni in Svizzera l'alto 1,85 adesso a Lisburgo che ha un contratto in scadenza nel 2024 quindi o va via quest'estate oppure li deve rinnovare ma al momento non sta rinnovando oppure lo perde a parmetro zero stessa situazione di Leao e Ben Nasser lui quest'anno ha fatto 6 gol e 1 assist in 12 partite nella Bundesliga austriaca giocando però 568 minuti quindi è come se avesse fatto un gol a partita in Champions 3 gol in 5 partite però a 394 minuti quindi un gol ogni partita e mezzo e ha fatto anche un assist nella Coppa austriaca lo scorso anno 9 gol e 9 assist in 21 partite di Bundesliga austriaca 3 gol in 6 partite di Champions League giocatore che sta crescendo che ha anche 2 gol in 8 partite con la Svizzera e che è molto d'utile può fare diversi ruoli centrale sinistra destra è uno cui non piace dare riferimenti spesso parte anche dalla sinistra vi faccio vedere ad esempio la mappa di calore dello scorso anno guardate insomma spesso entrava dall'area da qui dalla sinistra poi centrale a destra è uno che non dà riferimenti e che potrebbe essere anche giusto per il Milan di Pioli il Milan lo segue vedremo quali saranno i sviluppi però lui oggi ha detto sul mercato non ho preferenze di campionato che sia Inghilterra Spagna Italia o Germania ogni campionato ogni club è un fascino particolare quando ci sarà qualcosa di concreto valuteremo il Milan è un grande club con una storia leggendaria di fatto insomma in termini di mercato possiamo dire che oggi Noah Okafor che a me piace strizza l'occhio al Milan insomma fa capire che sarebbe una destinazione gradita come Darli Torto giocatore che si sta mettendo in mostra e che in questa Champions credo che abbia segnato a tutte Chelsea, Milan e appunto anche Dinamo Zagabria chiudo con ditemi se vi piace Okafor chiudo con un aspetto poi legato all'obiettivo di Cardinale risulta che il suo obiettivo credo che lo scrivesse anche oggi forse Repubblica sia quello di arrivare un progetto molto ambizioso a 500 milioni di fatturato con strada sportiva e strada commerciale strada sportiva ovviamente riguarda il campo i piazzamenti il raggiungimento di determinati obiettivi qualificarsi in Champions passare il turno se si passa il turno si portano dei soldi subito poi c'è il botteghino poi c'è il market pool è difficile anche quantificarli la Gazzetta considerava il passaggio in tutto 60 milioni secondo me sono tanti in ogni caso più va avanti più ti porti soldi aumenti fatturato puoi fare investimenti dall'altra parte il concetto commerciale dei media company sponsorizzazione partnership con grandi club americani come New York Yankees valorizzazione del marchio una strada ambiziosa però lui sembra uno specialista è uno che sa il fatto suo e che sembra possa farlo poi c'è un altro aspetto che è quello dello stadio che poi è probabilmente il fattore più importante per arrivare a 500 milioni di fatturato senza lo stadio non ci arrivi mai con lo stadio potresti avere decisamente più più risorse perché mi spiegava qualcuno ambito Elliot che lo stadio ti porterebbe un indotto quantificato in almeno 70-80 milioni annuali rispetto a 0 70-80 almeno 70-80 all'anno capite che che 70-80 all'anno è è un top player ogni anno che ti puoi prendere insomma mica male ditemi che cosa ne pensate ragazzi vi invito a iscrivervi a commentare a lasciare un like chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano scaricate anche l'app qui sotto dal link e scrivete il vostro nome fatela scaricare amici e parenti vi rimando al video precedente in cui vi parlo anche di rinnovi ci tengo oppure se non lo avete ancora visto quello di questa mattina su Asterix Astervranx un abbraccio forza Milano oggi più che mai domani ancora di più rosso e nero sempre